Buxiani, oggi parliamo di depressione e un consiglio pratico su come superarla Se il consiglio è quello di ragazzi passate meno tempo davanti allo schermo Sì, va bene Marco, lo sappiamo, ce l'hanno detto tante volte abbiamo provato a metterlo in pratica tante volte questo consiglio ma come mille altri consigli su cosa bisognerebbe fare nella propria vita rischia di essere lettera morta Allora io vi do un piccolo consiglio pratico su come fare a mettere in pratica davvero questa cosa ma prima di dirvi esattamente cosa fare vi spiego perché è importante staccarsi qualche ora dallo schermo ogni giorno è importante perché quando ti stacchi dallo schermo provi una cosa che oggi ormai è tabù oggi non proviamo più la noia non sappiamo nemmeno dove stia di casa, non sappiamo manco cosa sia e non è un caso che molto spesso anticamente la noia veniva chiamata sacra noia perché è sacra la noia? è perché non la proviamo più, tendiamo a non provarla più perché ogni volta che magari ti siedi sul divano, sei da solo e non sai che minchia fare non è che ti godi la noia, non è che rimani annoiato, non lo accetti prendi il cellulare in mano o accendi il computer o accendi la televisione combatti la noia così quindi praticamente il problema è che noi non abbiamo mai la possibilità di provare questa sacra noia e perché è sacra appunto? perché è il momento in cui il cervello può ricaricare le sue scorte di dopamina se tu non ti annoi mai, se tu ogni volta che poco poco ti senti meno stimolato del solito prendi il cellulare o giochi alla playstation o prendi il computer fai qualsiasi cosa con uno schermo per evitare di annoiarti non dai mai la possibilità al tuo organismo di recuperare quelle scorte sacre appunto di dopamina perché è sacra? perché se tu non hai la dopamina in circolo vuoi morire, non vuoi vivere la dopamina è l'ormone della motivazione ma anche della gioia di vivere della motivazione a vivere quindi se tu te la scazzi costantemente la dopamina esattamente come un cocainomane o un euroinomane che non danno mai tempo al proprio corpo di recuperare le proprie scorte e come lo fai? con facebook, con i social perché i social hanno proprio questa funzione cioè di costantemente triggerare il rilascio di dopamina in un modo tra l'altro estremamente innaturale perché noi in natura non siamo mai stati abituati ad avere una dopo l'altra cose interessanti davanti agli occhi magari una cosa al giorno magari due cose al giorno massimo ma cos'è la bacheca di facebook e di instagram? sono una raccolta di cose interessanti per noi quindi la dopamina viene triggerata costantemente e noi non siamo abituati non siamo stati programmati a triggerare così tante volte al giorno la dopamina tanto che nei casi peggiori addirittura i recettori della dopamina esattamente come nel caso di persone gravemente tossicodipendenti possono smettere di funzionare possono bruciarsi o comunque nei casi migliori fra virgolette possono andare in dormienza cioè si attiva un meccanismo di protezione dicendo vabbè adesso io vado in letargo e non ti produco più dopamina fino al momento in cui tu mi dai la possibilità un attimo di usare le proteine che ho ingerito produrre amminoacidi produrre con i vari amminoacidi dopamina questo appunto si ottiene semplicemente dando un attimo di tregua al proprio sistema dopaminergico cosa che non dà il drogato ma cosa che non dà anche chi è drogato di facebook e dei social va bene Marco ho capito che comunque devo un attimo staccarmi qualche volta dallo schermo perché se no non do assolutamente adito al mio cervello al mio organismo di recuperare queste scorte ma io non riesco assolutamente a annoiarmi nel senso che provo la noia e non riesco a stare insieme a quella noia non riesco a conviverci con quella noia non riesco più di 5 minuti cioè voglio voglio uccidermi dopo quei 5 minuti come minchia devo fare ecco ragazzi il consiglio pratico appunto che vi dicevo e vi avrei dato all'inizio del video è il fatto di crearsi quelli che prima venivano semplicemente chiamati passatempi oggi la gente non ha più passatempi se non usare facebook e usare instagram tant'è che se andate su google vedrete quanta gente cerca su google cosa fare in casa quando si è annoiati come evitare di annoiarsi cosa fare se non c'è internet in casa è una delle ricerche più fatte su google cosa fare quando non c'è il wifi perché nessuno si ricorda più cos'è che si faceva prima e cos'è che si faceva prima ragazzi poi vi metto una lista di cose sotto questo video in descrizione di varie cose varie passatempi che si possono fare in casa ragazzi i puzzle che cazzo ho fatto io i puzzle se vai a comprare un puzzle dicono ah ma che strano chi lo devi regalare un bambino no ci sono puzzle per adulti di mille cinquemila dieci pezzi suonare uno strumento costruire un lego stessa cosa come il puzzle a chi lo devi regalare il tuo cuginetto piccolo no lo faccio io qualsiasi altra cosa fare dei biscotti rinvasare una pianta ma fra queste varie cose che si possono fare la cosa le cose diciamo che servono di più a recuperare dopamina e proprio a sentirsi bene sono le cose sì manuali ma creative cioè per qualche motivo noi esseri umani abbiamo bisogno ogni giorno di fare qualcosa di pratico con le mani ma non solo pratico con le mani creativo ecco perché fra le cose che ho menzionato costruire un lego per esempio fare un puzzle cimentarsi nella costruzione pratica di qualcosa dalla cosa più piccola alla cosa più grande prima ad esempio in casa si costruivano col bricolage le cose prima si facevano i vasi in ceramica si dipingeva per esempio ragazzi se voi vi prendete dei colori per disegnare o dipingere per qualche motivo e vi sfido a provare la mattina vi svegliate e siete contenti perché siete contenti siete soddisfatti perché vi state impegnando a costruire qualcosa quindi siete proiettati verso il futuro guardate il futuro con molta più vitalità e felicità perché non vedete l'ora di portare a termine questo progetto di questa cosa che state costruendo dalla più piccola cosa alla più grande cosa vi ho detto dal puzzle alla lego siete lì lì per finire finalmente il vostro progetto della lego technique del porto commerciale di Amsterdam da 12.000 pezzi ovviamente siete gasati ovviamente vi sfido a trovarvi dei passatempi specialmente pratici ma soprattutto creativi pratici nel senso che bisogna usare le proprie mani per farli e creativi perché sono parte di un processo in cui la vostra mente si ingegna per creare dal nulla qualcosa quando noi esseri umani creiamo per qualche motivo ci sentiamo felici si attivano le vie non solo della dopamina ma della serotonina si attivano le vie degli ormoni del buon umore si attivano le endorfine quando noi creiamo probabilmente perché ci sentiamo Dio ma evidentemente evolutivamente noi siamo stati programmati per sentirci bene non solo se stiamo nella natura se viviamo a contatto con la natura se mangiamo bene se facciamo sesso se facciamo le cose di base per cui siamo stati programmati ma soprattutto ci sentiamo bene se stiamo nel processo di creare qualcosa dal nulla poi pian piano sempre di più poi pian piano sempre più in alto sempre meglio questo vi farà alzare la mattina e dire cazzo che figata che mi sono alzato perché sono lì lì per finire il mio progetto provatelo non bisogna costruire palazzi non bisogna costruire enormi progetti commerciali non bisogna costruire chiese non bisogna dipingere la cappella sistina va bene anche una cosa piccolissima vi ho detto un puzzle una lego dipingere gli origami c'è un mondo ragazzi su youtube se volete imparare ovviamente dovete usare uno schermo andare su youtube le prime volte per fare un origami per dipingere su tela per qualsiasi altra cosa pratica e creativa poi una volta imparato potrete farlo senza lo schermo e vedrete che veramente sentirete la differenza provateci e fatemi sapere ciao 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 ciao